Ancora una volta ben trovati. L'Associazione Amici della Musica Giuseppe Moulet non si ferma e tenendo anche fede agli impegni già assunti dal nostro indimenticabile Rosario Quattrocchi vi propone per la imminente stagione estiva un viaggio unico attraverso le pittoresche strade dell'Umbria, una delle regioni più affascinanti d'Italia. Alle mie spalle già vedete una finestra che si affaccia sulla monumentale Basilica di San Francesco ad Assisi. Il nostro viaggio in busso Gran Turismo ci condurrà alla scoperta dei tesori nascosti di questa terra ricca di storia, cultura e bellezza naturale. Partiremo da Termini l'8 luglio e nel pomeriggio dopo il naturale pranzo previsto lungo il percorso raggiungeremo la zona di Salerno dove ceneremo e pernotteremo. Il giorno successivo scopriremo il fascino di Todi, una bella cittadina che sembra essere rimasta immutata nel tempo e che ci regalerà una esperienza autentica e indimenticabile. Nel pomeriggio raggiungeremo Perugia e saremo ospiti di un albergo tutto particolare, l'hotel Joe Wine, dove i pianoforti diventano sdivani, dove le bottiglie sono la base dei tavoli e le botti diventano sedie e lampane. Nei giorni successivi visiteremo la città Perugia, una città d'arte, di storia e di gusto, non dimentichiamo il suo gustosissimo cioccolato. Perugia è un incantevole centro storico con le sue antiche mura etrusche e le sue strette stradine medievali, con la maestosa Fontana Maggiore e con i suoi tanti splendidi palazzi. Ci immergeremo così nell'atmosfera vivace di questa città che ci conquisterà sicuramente per il suo fascino unico. E poi non potevamo non andare ad Assisi, città sacra e simbolo di pace, con la sua atmosfera spirituale, le sue bellezze artistiche ed è anche famosa per essere la patria di San Francesco e di Santa Chiara. Visiteremo ovviamente la Porzioncola, la chiesa più antica dell'ordine francescano e il convento di San Damiano, dove San Francesco ricevette la visione della croce. Una città questa che ci avvolgerà, come dire, con il suo spirito francescano e ci lascerà ricordi invelebili di pace, spiritualità e bellezza. Assisi ci regalerà senz'altro un'esperienza unica e indimenticabile. Visiteremo poi Spoleto, famosa per il suo Festival dei Due Mondi e per il suo straordinario Duomo. Una cittadina dove si incrocia l'epoca romana con quella medievale e che ci incanterà per le sue bellezze come il Teatro Romano o il maestoso Ponte delle Torri o il Duomo affrescato da Filippo Lippi. Scopriremo poi il fascino e la bellezza di Spello, un borgo medievale, un gioiello nascosto dell'Umbria, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove ogni anno racconta una storia di secoli passati. Spello è uno dei borghi più incantevoli e strategici dell'Umbria. Ci aspetta inoltre Poligno una città ricca di storia e di cultura con le sue chiese e palazzi storici. La sua piazza principale, quella della Repubblica, è un concentrato di opere architettoniche come il Duomo, il Palazzo Comunale o il Palazzo Trinci. In queste giornate Umbria poi assaporeremo la sua deliziosa cucina, una gastronomia antica e ricca di prodotti d'eccellenza come prosciutti, caciotte, tartufo ed ancora olio e vino e tanti squisiti dolci. Purtroppo il nostro viaggio sta per concludersi, ma avremo ancora il tempo per visitare pure Cosenza con il suggestivo centro storico, il Duomo, il Castello Svevo e il Teatro Rendano. Domenica 14 luglio saremo di ritorno, forse un po' stanchi ma sicuramente con delle esperienze in più. Resteranno nella nostra memoria i paesaggi mozzafiato delle colline Umbre, i suoi incantevoli borghi medievali e la sua cucina deliziosa, nonché, dopo aver visto Assisi, un senso di pace e di serenità. Bene, questa è l'Umbria, quindi per informazioni e prenotazioni direttamente presso la segreteria dell'associazione in via Stenio 1 in piazza Duomo a Termini Merese oppure telefonando ai numeri 091 81 45 651 o 351 382 44 96. Ma non perdete tempo, dobbiamo urgentemente prenotare gli alberchi, vi aspettiamo per vivere insieme momenti straordinari nella verde Umbria. Arrivederci!